In questi anni, durante il periodo estivo, a tutti noi sarà capitato almeno una volta ad imbatterci in masse indefinite di turisti che letteralmente vagavano per il territorio. Chi era in cerca di luoghi simbolo del film Benvenuti al Sud, chi voleva visitare qualche ristorante, suggeritogli da altre persone, chi voleva conoscere gli angoli storici e paesaggistici più belli del nostro comune, Castellabate. La caratteristica che univa tutte queste persone era la sensazione di smarimento. Lo mette in risalto il consigliere di opposizione Luigi Maurano in una nota stampa. È evidente e continua Maurano che c'è una carenza di offerta informativa che condiziona e a volte limita il soggiorno nel territorio, tolta qualche iniziativa prettamente privata e per questo circoscritta manca l'attenzione politica su questo tema fondamentale per il miglioramento e quindi lo sviluppo del turismo. Il comune di Castellabate, sottolinea il consigliere, è ricco di storia che deve essere valorizzata e raccontata. Secoli di storie, aneddoti, di tradizioni, di miti, di arte, di cultura. Per questo bisogna creare dei percorsi tematici che abbraccino tutto il territorio e che portino sviluppo anche per le attività commerciali presenti. E bisogna farlo utilizzando tutti i canali comunicativi a disposizione. Da ciò nasce l'idea di istituire una nuova figura stabile all'interno del comune di Castellabate, la guida turistica comunale che informi, indirizzi e accompagni i turisti verso la vera scoperta storica, culturale e paesaggistica del territorio e nei periodi di bassa stagione svolga lavoro di ricerca e organizzazione delle azioni da mettere in campo per arricchire e migliorare ogni anno i servizi e l'esperienza dei nostri ospiti. In questo modo gruppi di turisti potranno prenotare in anticipo il proprio percorso guidato per visitare il comune di Castellabate oppure potranno trovare nei luoghi di maggiore interesse storico specifiche figure pronte ad accompagnarle alla scoperta dei nostri luoghi. Si potrebbe immaginare anche un servizio informativo all'interno della navetta che dovrebbe collegare la stazione di Agropoli Castellabate con il nostro comune. Tali figure potremmo chiamarle operatori culturali con apposito bando e meritocrazia, selezione avranno il compito di supportare la guida turistica comunale perché la cultura al pari dell'ambiente ha bisogno di persone che mettano a disposizione della collettività il proprio impegno, la propria professionalità, il proprio sapere. Un servizio nuovo ed essenziale per il territorio che garantirebbe nuove opportunità di occupazione per le ragazze e i ragazzi del nostro territorio e miglioramento dell'offerta turistica. Tutto ciò è finanziabile con una parte delle risorse correnti e anche attraverso specifici contributi da parte di enti sovraccomunali, Ministero della Cultura e del Turismo, Regione Campania. Da queste azioni, di queste scelte e da questi servizi passa la qualità del turismo. Il comune di Castellabate lo merita.